Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata di 4 chiacchiere. Buonasera. Buonasera. Abbiamo in ospite Jin Tsai, dalla Francia. Ciao Jin. Ciao Wen, grazie per l'invito. Ah, prego. E poi abbiamo anche una spalla di supporto, un'amica di Jin, anche mia. Luolo da Ferrara. Ciao Luolo. Ciao a tutti, ciao. Ciao Luolo. Eccola, ciao. E niente, voi sapete perché siete qui? Soprattutto te, Jin. Beh, certo. Parliamo un po' del post-coronavirus, anche come abbiamo passato tutti. Questo momento sanitario senza precedenti che in Francia il Presidente della Repubblica Macron ha dichiarato guerra, una guerra naturalmente sul piano sanitario. Poi siamo qui anche per parlare del calendario di Associna, per ricordare anche che esistiamo come realtà dei cinesi di seconda o terza generazione, che ci impegniamo sul piano solidale e che durante il Covid-19 abbiamo contribuito all'Associna nazionale a donare le maschere al servizio sanitario italiano. È vero, è vero. Dopo recupero un attimo le immagini delle donazioni. No, sì. Il calendario era una proposta dell'anno scorso. Io ti avevo messo a ottobre, infatti lo riguardiamo. Eccolo Jin Sai. Ecco, in tutta la sua forma. E niente, volevo approfittare appunto di invitare i vari ospiti qua su questa webchat e appunto introdurre un attimo un po' di figure particolari, perché questo calendario è fatto da vari personaggi, soprattutto del mondo del lavoro. E quindi te, Jin, che lavoro fai? Io sono qui, sto facendo la mia ricerca all'Università Cremont-Vernes sotto la direzione della professoressa Bisconti e sto facendo una ricerca sul XV secolo in Italia su Lorenzo Valla, che è un filologo umanista sulla falsa donazione di Costantino, ma tengo anche dei corsi universitari. Qui, essendo dottorando, posso ottenere dei corsi universitari di livello di laurea triennale di lingua e cultura italiana. Quindi sei in italiano all'università? Sì, perché sto facendo una ricerca nell'ambito italianistico, quindi il dipartimento è quello di lingue, quindi quest'anno ho avuto cinque corsi, naturalmente sempre sugli aspetti linguistici, ma culturali anche sull'editoria italiana, i corsi che comunque ci sono dei corsi proprio deutici, ma anche dei corsi solo per l'apprendimento della lingua italiana. E da quanto tempo stai in Francia, Gene? Sono da due anni che sono qua, a Clermont-Ferrand. Dove si trova? Di preciso. Si trova nel centro della Francia, diciamo per avere un'idea vicino a Lione. Aspetta, aspetta. Vicino a Vichy, vicino a Lione, ok? Vicino a Vichy, lo conosciamo tutti per i cosmetici, e Lione... Clermont è una città abbastanza conosciuta, è il capoluogo della regione ex-regione Auvergne, perché adesso con la riforma dell'accoppamento delle regioni si chiama Auvergne-Ronalpe, perché ci sono delle macro-regioni. Poi Clermont-Ferrand è conosciuta anche perché è la casa di Blaise Pascal, quindi anche di Urbano II, il Papa verso le crociate. È abbastanza... Per chi, diciamo, amante della Francia, Clermont-Ferrand è abbastanza conosciuta. Vichy è ancora più in giù. Vichy è ancora più in giù. Ah, è qua. Eccola. Dov'è di precedenza? A sinistra. Sinistra, ok. Un po' più in giù. Un po' più in giù. In giù? In giù, 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 giù. Però non me l'ha beccato subito. Mi dà il cap? Il cap è 63-0-0. Eccolo, Clermont-Ferrand. Eccolo, voilà. Ormai sei esperto di Clermont-Ferrand. Beh, diciamo che non è grandissima, quindi... Ma è più grande di Ferrara, vero? Sì, come abitanti sì. Però il centro, quello lì, è la cattedrale. Carino. E la cattedrale è tutta nera, perché è la pietra di Volvic, che è un altro paesino qui vicino, che è conosciuta anche per l'acqua. Ma insegni proprio a Clermont-Ferrand? Sì, è proprio in questa città qua. E l'università è qui vicino. Cioè, insomma, non è... È come Ferrara, come grandissima. Quindi abbiamo in più, ecco, solamente il tram, che funziona molto bene, una linea sola, perché non è una grande città come Leone o Parigi. Tu hai detto che insegni l'italiano ai francesi, giusto? Sì, giusto. E come la prendono questi studenti francesi, visto che il professore è un italo-cinese? È molto interessante la tua domanda, Lolo, perché nello stesso dipartimento di lingue ci sono anche colleghi di cinese, che vengono da Pecchino o da Xi'an, che ho avuto il modo di conoscerli e di fare due chiacchiere con loro. Ovviamente la prima lezione mi ha accompagnato il direttore del dipartimento, cioè il responsabile poi dei corsi d'italiano, per presentarmi ai nuovi studenti, perché ovviamente, come dici tu, fai notare la fisionomia, non è proprio quella italiana, ovvio che... Però diciamo che anche i francesi sono abbastanza, a confronto agli italiani, abbastanza, diciamo, pronti, non hanno questo luogo comune che se vedono un viso non familiare pensano subito alle sue origini, perché la Francia, a confronto all'Italia, è un popolo che ha già avuto le sue immigrazioni nel tempo della storia, quindi sono già preparati, c'è già un bel, come dire, un bel... una bella inclusione, diciamo, multietnico nel tessuto sociale francese, quindi non ci sono stati grossi problemi o di impatto, di facciata. Ovvio che l'insegnamento dell'italiano da parte di un cinese può sembrare un po' sul primo impatto un qualcosa di diverso, però direi anche che ha anche un elemento innovativo, è un docente che ha un'esperienza diciamo più ampia in vari settori, ma anche con varie esperienze, venendo dall'Italia, dando a loro un'infarinatura anche generale del mondo italiano. Interessante. Quindi Francia 1 e Italia 0, giusto? Hai dato un punto alla Francia. No, no, non siamo a una partita di calcio, perché io stimo entrambi i paesi, sia l'Italia che l'Italia, quindi non si può essere così diciamo superficiali e generalizzare un po' tutto. Ovvio che sul piano della cucina ecco i piatti ferraresi italiani mancano, la cucina è diversa, però anche qui ci sono dei piatti deliziosi, le crepes, le galette bretono, i formaggi, diciamo che anche loro hanno una varietà di offerta sul piano alimentare, ma sono abitudini che abbiamo alla fine. E le tue abitudini cosa mangi di sera? Sentiamo. C'hai mangiato stasera. Esatto, sentiamo. Stasera, stasera ho mangiato della pasta al pesto, quindi è piuttosto italiano, c'hai nostalgia. italiano, sì, diciamo che la maggior parte dei miei pasti è italiano, qualche volta cinese o i ravioli cinesi che li faccio io o della pasta fresca. Di francese solitamente quando sono con Julie delle crepes, facciamo delle galette, quindi piatti francesi di per sé diciamo che non lo facciamo quasi mai. Ma quali sono i tuoi piatti dell'infanzia? Visto che tu sei vissuta, hai vissuto in Italia, però hai vissuto fino a sette anni in Cina, giusto? Io ho vissuto in Cina fino a nove, dieci anni e i piatti che faccio qui cinesi sono poi i ricordi di infanzia certamente come i ravioli, la pasta saltata, i ramen oppure i gnocchi saltati che ricordano ovviamente l'infanzia ma c'è sempre un mio tocco io amo anche dare un tocco diverso alle ricette che ricevo quindi a volte anche un misto tra la cucina italiana e la cucina cinese diciamo che finora non sono ancora arrivato a mescolare con quella francese. Ascolta, tu hai citato prima Julie, ci vuoi raccontare il motivo perché sei in Francia? Beh, uno dei motivi diciamo non è che sia il motivo principale Come ci sei arrivato? Sentiamo. Ecco, come ci sono arrivato? Ecco, innanzitutto Cremont Ferron io ho avuto una bellissima esperienza durante la mia durante il mio periodo scolastico al liceo perché avendo sempre fatto in diritto linguistico le lingue straniere tra cui il francese e la mia scuola Iroiti di Ferrara era gemellata con un liceo qui a Rion Rion è un'altra città qui vicino a Cremont Ferron che ho avuto ovviamente occasioni di andarci a vedere la città e lì abbiamo fatto uno scambio di due settimane tra Rion e Ferrara e da lì ho conosciuto Giudì che è la mia fidanzata che poi Giudì come sapete è venuta anche lei in Italia ha fatto un periodo ferrarese quindi dopo abbiamo deciso di cambiare perché abbiamo detto siamo giovani perché non darci un'opportunità di migliorare o di cambiare poi Giudì è la sua città natale quindi abbiamo provato a sperimentare questa nuova avventura quindi avendo io avuto l'occasione di proseguire con i miei studi e avere un dottorato qui in Francia e lei si è avvicinata alla sua famiglia quindi siamo contenti entrambi quindi abbiamo colto l'occasione al volo mi fa piacere mi fa piacere ti manca un po' dell'Italia se dicessi che non mi manca mentirei allo stesso momento diciamo che le amicizie che ovvio sono sempre i legami che uno ha con il territorio le amicizie si costruiscono durante gli anni certo che fare un cambio così radicale non è non è non è facile però pian pianino ormai sono due anni che sono qua mi sono fatto anche delle altre amicizie ma questo non vuol dire che ho dimenticato i miei amici a Ferrara oh mamma mia ma nella Cina che rapporto hai con la Cina in Cina ho i miei parenti diciamo soprattutto durante la pandemia li ho sentiti maggiormente per sapere soprattutto come stavano all'inizio eravamo noi in Italia ma penso anche per voi che siete tutti anche voi che avete le origini cinesi la prima fase eravamo noi essere preoccupati di loro che sono in Cina perché dalle notizie giornalistiche avevamo delle notizie pessime da Cina a un certo momento siamo diventati noi le 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 vittime del del coronavirus questo l'ho sperimentato anche qui in Francia verso gennaio febbraio ho aderito a una campagna qui a con degli altri universitari cinesi che abbiamo un altro gruppo ma questo non per discretare fare discredito di Associna ma ci sono anche qui in Francia delle altre realtà non dico italo-cinese franco-cinesi cioè francesi e cinesi e io ho aderito a questa campagna per raccogliere più dispositivi medici come maschere o tutte da inviare in Cina questo gruppo si chiama del Cendu che ho organizzato perché i studenti venivano da quella città lì e allora mi sono attivato per raccogliere delle maschere e le tutte grazie anche al supporto di mia suocera che è un'infermiera quindi aveva anche i mezzi per aiutarmi a raccogliere questi dispositivi medici a un certo punto diciamo che nella seconda fase abbiamo avuto bisogno noi di ciò che avevamo mandato in Cina cioè delle maschere delle tutte anche la Francia si è ritrovata come lì 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 senza 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 maschere e tutte per 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 i medici cioè i sanitari sono rimasti senza senza barriere senza misure di protezione quindi dispositivi di protezione quindi e lì ho visto che che per fortuna io avevo comunque anche alcune scatole ancora con me perché se no non non riuscivi neanche a uscire a fare la spesa perché avevi comunque timore e anche lì i parenti in Cina come mia zia che sta a Shenzhen o altri parenti i miei due che stanno a Wenzhou hanno hanno anzi persino la domanda se se vogliamo tornare in Cina per per essere assicuro che ovviamente abbiamo declinato l'invito perché era un po' fuori luogo perché il virus era già in giro quindi era impensabile una domanda quanto costano adesso le mascherine lì da voi in zona d'altà allora qui per fortuna il governo francese è intervenuto subito ha bloccato la vendita ai privati le maschere che c'erano in stock sono state le maschere sono state destinate subito al personale medico sanitario quindi non c'è stato un diciamo un caos come in Italia diciamo che sul piano sul piano logistico e anche amministrativo un po' perché questo è anche grazie al potere governativo che è centralizzato in Francia cioè la Francia funziona in maniera omogenea non come in Italia l'Italia come sappiamo funziona per regione quindi c'è una separazione di potere no in Francia le decisioni importanti sono su livello locale o territoriale ho capito eh no perché qua le maschere anche persino anche i gel per le mani hanno messo un tetto ok un tetto quindi è tutto stato diciamo controllato senza che ci fosse una speculazione ok quanto passano le maschere chirurgiche ovviamente il costo è aumentato costano comunque sui 50-60 centesimi poi qui dipende dalle farmacie che vai sono calmerati giusto sì sono diciamo che sono calmerati ma anche la gente allora qui a Cramonferron il sindaco ha inviato a tutti i cittadini due maschere lavabili gratuitamente per posta e poi chi ne avesse bisogno ci sono dei grandi centri organizzati come il centro sportivo diciamo i luoghi spaziosi per chi volesse richiederne delle maschere ulteriori ma è stata molto una decisione molto saggia quello di inviare per posta le maschere e non le file che abbiamo visto in Italia e i francesi come hanno reagito di fronte a questo coronavirus a differenza di italiani attento con le parole perché stai lodando un po' troppo i francesi sembra che no allora anche qui in Francia ovviamente la situazione pandemica è stata sottovalutata perché già anch'io dicevo guardate che non è una semplice influenza penso anche qui c'è stato un problema di comunicazione sul livello internazionale perché nessuno poi avrebbe mai pensato di questa portata un confinamento quasi di due tre mesi i francesi diciamo che molti si sono ritirati nelle campagne chi aveva i parenti in campagna quelli che sono in città sono rimasti tutti sono rimasti in casa perché comunque c'è anche si percepiva comunque un un sentimento di inquietudine di paura del resto anche qui comunque ci sono state forme di solidarietà durante la pandemia di cui io e Giulia abbiamo partecipato a un progetto a Leone che si chiama PUR-E o PUR-EL è un progetto per aiutare i senza tetto qui in Francia preparavamo dei pasti dopo venivano dei volontari che li distribuiva il senza tetto oppure anche degli indumenti anche dei prodotti igienizzanti per il senza tetto che si trovano per le strade ovvio che il problema anche qui non si può dire che sia andato tutto bene perché anche nelle grandi città francesi c'erano le persone che violavano le regole durante il confinamento qui è subito entrato in vigore le certificazioni ma non come in Italia in Italia c'è stato possiamo dire una raccolta quasi un album delle figurine con le certificazioni in Francia una certificazione che si poteva compilare a mano per chi non avesse avuto una stampante e poi c'era dopo qualche settimana c'era direttamente o per cellulare o per c'era scaricabile tramite cellulare uno lo poteva riempire direttamente sul cellulare se c'è poi anche non non stamparlo no potevi farlo o compilarlo a mano copiando il testo il testo dell'autocertificazione poi alla fine era molti molti hanno scaricato direttamente l'autocertificazione lo compilavano direttamente sul cellulare si alla fine è stata una delle scelte migliori perché in Italia c'era veramente un terno all'otto per sapere quale anche persino quell'autocertificazione di stampare beh dai stiamo recuperando in Italia se te lo devo dire qua la fase 2 c'è l'app immuni non so se si vede qua l'app che ti immunizza che è uscita da una settimana e quindi voler me essere un po' più protetti così dicono io l'ho installata per precauzioni così mi porto anche io volevo chiederti com'è la fase 2 adesso in Francia com'è la ripresa come la vedi la ripresa anche qui è una ripresa difficile perché comunque i problemi in Francia c'erano già anche prima a causa delle manifestazioni dei gilets jaunes che hanno i gilets gialli i giacchetti gialli diciamo se vogliamo fare la traduzione in italiano hanno manifestato quasi tutti i sabato durante l'anno oggi ecco vi faccio un piccolo esempio oggi una delle catene più famose della Francia che vendono dolciumi che si chiama la la cure gourmand perché che vendono dolciumi biscotti è un negozio che troviamo in tutta la Francia e quello di Cremont chiude perché non ha a causa perché ho detto oggi al al commesso dico un peccato dico che chiudiate e lui mi ha risposto purtroppo già con i gilets jaunes abbiamo avuto un calo adesso con il covid siamo proprio in crisi ma chiude nel senso chiude chiude si non ha più ma questo è un problema non solo di cioè individuale è un problema collettivo i 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 colpiti diciamo che non c'è solo la crisi sanitaria dopo la crisi sanitaria lo Stato dovrà affrontare vari problemi quello economico quello ambientale perché come al solito l'incivilità regna vediamo già con le maschere che sono per terra dappertutto i guanti senza 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 un minimo di decenza di buttarli nel pattume perché innanzitutto le maschere e i guanti sono di plastica. Quindi abbiamo già un uso inappropriato di materiali difficili da smaltire, non riciclabili. E poi ci sono problemi anche legati sul piano psicologico. Ci sono persone che non hanno retto di fronte a questo confinamento. Ci sono anche molti suicidi, da ciò che leggo. Il confinamento è alla fine il male minore, secondo me. Poi ci sarà veramente da salvare l'intera Europa, per non dire tutti i paesi del mondo. Perché siamo ormai legati e purtroppo il coronavirus non guarda in faccia a nessuno. Eravamo già in una situazione stagnante sul piano economico. Con questa battosta aumenterà, anche i inattivi aumenteranno, non cercheranno più lavoro perché poi non c'è lavoro. Le imprese non assumeranno perché comunque c'è ancora l'incognita della seconda ondata. Ma come funziona la cassa di integrazione in Francia? Allora, per la cassa di integrazione in Francia si chiama chommage partiel o chommage technique. È una forma di come un po' in Italia la cassa di integrazione con l'80% dello stipendio. E che anche lì è un altro aspetto perché a parere mio molti hanno anche abusato di questa forma sociale. Perché molti comunque lavoratori hanno continuato a lavorare, a fare il telelavoro. L'80% era pagato dallo Stato e il 20% dalle imprese. Quindi hanno cercato di farsi pagare dallo Stato? Ma qui comunque ci sono sempre i controlli in Francia. Quindi diciamo che funziona, ecco, sul piano sociale i controlli ci sono. Quindi i nodi alla fine vengono al pettine. Però se guardiamo veramente come sta andando, non penso proprio che tanti, diciamo, la situazione era palese, ecco, che le aziende sono in crisi. Di aiuti, lo Stato ci deve essere in un momento comunque così delicato sul piano economico, sto dicendo. E le imprese avevano promesso. Ecco, una delle cose che è ovvio che è un aspetto negativo, ecco, per dire che non ci sono sempre rose e fiori. avevano promesso anche i patroni dei supermercati come Auchan o Carrefour, avevano promesso un premio, no? Per i cassieri che hanno comunque lavorato, o gli infermieri, il personale medico che hanno lavorato, un incentivo, un premio lavorativo, invece no. Dopo, adesso, con il deconfinamento, hanno detto va bene, avete dato, chi si è visto, si è visto. Ah, è strano. No, qua in Italia, tipo S. Lunga, ha dato subito dei premi ai propri dipendenti. Oppure la protezione civile ha messo dei bandi per prendere più infermieri durante l'emergenza. Quindi c'erano i soldi nell'emergenza, cioè l'italiano ha donato molto. Sì, no, no, ma ho seguito anche le notizie. Scusate, ma accendo la luce perché altrimenti rimaneva il buio. Adesso ho visto che si è scurito, noi abbiamo le luce accese. Vai pure. Oh, lei, ti si vede. Hai seguito, giusto, anche qua le donazioni in Italia? Sì, sì, ho seguito. Io seguo sempre da lontano, leggo sempre Repubblica, ho le testate giornalistiche. Comunque ho anche sempre seguito, anche quando ero in Italia, le news, le informazioni, perché sono curioso. Quindi voglio sapere un po' di tutto. No, seguo abbastanza le notizie anche qui in Francia, nel mondo, o anche in Cina, su siti di via, per vedere quello che succede e avere comunque una visione più ampia possibile di ciò che accade intorno a noi. Penso che sia importante per tutti noi. Sì, 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 bisogna tenersi informati. Tu mi dicevi prima che la Francia riaprirà i confini. Questo o il prossimo mese, non mi ricordo? Allora, la Francia apri dal 15 giugno i confini. Sul piano regionale, la Francia non ha fatto come l'Italia, è un periodo solo tra le… Cioè uno può muoversi solo sulla propria regione, la Francia con il deconfinamento uno poteva comunque girare in… No, in realtà hanno cominciato fino al 2 giugno, si poteva muoversi solo fino a 100 chilometri, scusate, 100 chilometri dal luogo di residenza. Invece chi voleva oltrepassare il limite del tetto chilometrico o aveva una giustificazione lavorativa o una giustificazione per motivi gravi familiari. Come qua, come qua. Tu sei riuscito a ritornare appunto a casa appunto di Giulie, che sta a Lione, giusto? Sì, sì. No, noi anzi durante il confinamento siamo stati là e a Lione perché comunque lei comunque ha continuato a lavorare, anzi lei ha appreso proprio a lavorare anche fisicamente adesso dopo il deconfinamento. Sì, anche qua in Italia si sta pian piano ritornando a normalità, siamo tornati il mese scorso. Beh, diciamo che la normalità… le persone hanno bisogno della normalità e delle proprie abitudini, anche se a volte si sentono stanchi di andare al lavoro, ovvio ci lamentiamo spesso, però fa parte della nostra vita quotidiana. Eh già, sei già tornato ad andare a mangiare al ristorante oppure sei in programma di andarci? Siamo stati una volta, siamo stati una volta questa settimana, eh? Ah, cosa hai mangiato? Cosa hai mangiato? Abbiamo mangiato… allora, abbiamo mangiato… io non sono… oddio, non sono piatti ovviamente francesi, quindi io ho mangiato un piatto di tonno, cioè tonno fresco, non tonno in scatala, per essere precisi, è un trancio di tonno e delle patatine e Julie ha mangiato un hamburger, ma siamo stati comunque bravi, abbiamo… c'erano comunque… anche abbiamo visto anche nel ristorante c'erano i tavoli molto lontani, uno dall'altro, la gente comunque… dopo, diciamo, questo confinamento stanno un po' più attenti a ciò che fanno e speriamo che continui durante l'estate. Eh sì. E come prezzo cosa hai notato? Secondo te erano come prima del Covid o hanno aumentato? perché qua abbiamo avuto i casi dei parrucchieri che mettevano sovrapprezzo per tutto il materiale che hanno comprato. Sei andato tutto il parrucchiere? Brava Lullo, io come vedete solitamente ho i capelli più lunghi e ho fatto una bella, possiamo proprio dire, una bella tosata perché non ne potevo più dopo tre mesi e sì, c'è anche qui dove sono andato io il primo che ho trovato, ve lo giuro perché non ne potevo più. Solitamente vado dal mio parrucchiere qua a Cremonferon, ma persino ho prenotato due settimane in anticipo per andarci perché la lista era veramente già piena, l'agenda era piena. E hanno fatto un sovrapprezzo di due euro. Quindi ci sta anche dopo poveretti che sono stati chiusi per tre mesi senza clientela, diciamo anche un gesto di solidarietà si fa a volentieri, però non giustifico i prezzi dei supermercati. Ecco, questo non è giustificabile perché i supermercati sono comunque un punto d'accesso per tutte le famiglie e purtroppo sappiamo tutti chi ha di più e chi ne ha di meno. Quindi aumentare i prezzi anche solamente degli alimenti essenziali, il latte, il pane o le uova o la farina, io credo che sia inopportuno. Già i prezzi di per sé prima del Covid erano alti e 20 centesimi o 10 centesimi su ogni prodotto per una famiglia fa la differenza. Soprattutto in questo momento che le famiglie fanno veramente fatica, non diciamo più a tirare fino a fine mese, fanno fatica a tirare fino a fine settimana. Ma per quello che mi ricordo, in Francia costa tutto tanto tranne i servizi telefonici, vero? È vera questa cosa? Anche qui c'è una competizione sfrenata tra gli operatori telefonici, è come un po' in Italia, fanno lo stesso gioco. Qui l'unico elemento positivo è che l'IVA su certi elementi viene applicato in maniera diversa, come dicevo i beni essenziali c'è il 5% l'Italia ha 10, giusto? Sì, in Italia ha comunque una tassazione maggiore, come anche sul caso di molti prodotti e qui diciamo che ci sono anche, del resto sull'ambito del commercio siamo un po' simili all'Italia, non è che cambia molto, i prezzi sono comunque quelli. Diciamo che da dove vengo io, dove è l'oluo, a Ferrara i prezzi sono alti, decisamente. Ferrara è una delle città comunque, le famiglie hanno meno potere d'acquisto. Quando sono arrivato qua, comunque i prezzi li ho trovati più bassi a confronto a Ferrara. Ah sì? Più bassi. Invece a Clermont-Ferrand c'è una grossa comunità cinese. Sì, ci c'è anche persino l'Istituto Confucio qui a Clermont-Ferrand e all'interno di un liceo, di una scuola che si chiama Licee Jean d'Arc, Giovanna d'Arc, e fanno gli esami di HSK. Poi ci sono due associazioni, Amity, France e Sheen, poi ci sono delle associazioni anche studentesche. Ci sono molti anche i dottorandi cinesi che vengono a Cine. Ma ci sono più studenti cinesi o più immigrati di prima o seconda generazione. Com'è il rapporto tra queste due? Allora, a Clermont sono più cinesi che sono qui per studio o per lavoro e diciamo che sono più di un livello scolastico, sono più scolarizzati, ecco, in senso più scolarizzati, in senso che fanno dei lavori che uno deve avere un titolo. Ecco, qui in Francia non funziona come in Italia tanti bar cinesi o tanti wok sushi o tanti ristoranti o tanti barrucchieri cinesi, già i bar è un mondo diverso. I francesi non sono, qui in Francia non ci sono i bar come in Italia, ecco. Ci sono le terasse dove vanno i ragazzi a prendersi un aperitivo, però non c'è quell'abitudine che hanno gli italiani, è quella relazione, possiamo dire, quella simbiosità tra gli italiani. E qui i cinesi che io ho connessuto sono maggiormente dell'ambito scolastico, che sono architetti, sono imprenditori, che hanno fatto comunque degli studi di commercio qui in Francia. E come ti trovi con loro? Hai fatto amicizia? Sì, no, no, assolutamente no. Della verità. No, veramente, no, mi hanno invitato a cena da loro. Purtroppo io per prudenza ho rifiutato, dico forse è meglio aspettare un attimo, perché il deconfinamento non vuol dire che la pandemia sia terminata. Quindi per precauzione e per prudenza ho detto, boh, forse è meglio che rinviamo, posticipiamo l'incontro amichevole. Quindi preferisco aspettare, quindi essere prudente. Per caso stai aspettando che ti facciano l'esame del Covid? No, perché qua c'è un'indagine a campione, quindi stanno prendendo, non mi ricordo se è 100.000 o più italiani a campione per vedere un punto di esame, più quelli che sono obbligati. Non so lì da voi com'è il programma per i prossimi mesi. No, qui non ci sono programmi, oddio, non ho sentito programmi di testare i cittadini. Diciamo che su quel piano lì non se ne parla molto. In realtà anche qui a Caramont-Ferrand non ci sono stati casi, non è mai stato un po' come Ferrara, Lolo mi confermi, non ci sono stati grandi casi di malati o pazienti. Sì, perché siamo sempre stati un po' esclusi da tutto, anche dalla pandemia. Ma no, Ferrara è questa zona malarica, avete dei bei anticorpi, diciamo, le zanzare siete ben protetti. Vabbè, rispetto a Bologna sì. Ricordo che la palude ferrarise è stata bonificata. Sì, Bologna è un capoluogo. Bologna sì, sì, sì. È stato da subito, però meglio di Piacenza e Parma, che erano vicino all'Odi. Là sì che i numeri sono più alti, quindi anche Bologna diciamo che è gialla. Ops, io ho perso. Ora mi sentite? Sì, sentiamo questo. No, dicevo, Bologna almeno è già una gialla rispetto a Piacenza e Parma, che poveretti erano vicino all'Odi. Sì, perché lì, sì. No, Ferrara è andata bene. Beh, anche qui in Francia si è diffusa perché c'era una setta religiosa che hanno fatto un raduno spirituale e così si è diffusa la pandemia qui in Francia. Sì, pensa che a Ferrara hanno fatto una festa di ballo, una festa di ballo in hotel e da lì hanno iniziato a diffondere, ha iniziato a diffondere questa pandemia. a Ferrara. A Ferrara. Sì, qui è sempre causa di qualche sciagurato che non tiene in considerazione i rischi che può causare. Poi a Ferrara ho visto anche già alcune scene, alcune notizie, persino un bel vice sindaco che aveva fatto festa, questo per Marello Lua, ecco che è là, io leggo sui giornali e quindi non ho la realtà sotto gli occhi. Qui diciamo, non ho visto grandi raduni, ecco, persino le manifestazioni o anche per le feste che ci sono state qui in Francia, nessun raduno è stato fatto, nessuna autorizzazione è stata fatta. Ma ai primi tempi del coronavirus, diciamo a febbraio, no? Ci sono stati degli episodi di razzismo in Europa, in Italia, nei confronti dei cinesi. In Francia ce ne sono stati? Sì, diciamo che siamo stati un po' etichettati. Questo purtroppo è ancora, resta comunque nell'ignoranza della gente che fanno tutta erba un fascio se solo perché hai i tratti asiatici vuol dire che vieni dalla Cina, cioè anzi pensano che facciamo viaggi tutti i giorni dall'Italia o Francia in Cina. Questo è il rischio della gente comune. È vero. In realtà io in Cina sono stato l'ultima volta nel 2015, quindi i contatti saranno difficili. Anzi, in Italia Codugno è stato un italiano, mica neanche un cinese. Alla fine chi è che non viaggia? Cioè sono gli imprenditori che viaggiano di più maggiormente, anzi soprattutto i manager delle multinazionali, più che noi semplici mortali. non è che sinceramente i miei studenti mi conoscevano, quindi non ci sono stati problemi di questo genere. Anzi, il più la preoccupazione, dopo prima sono stati i cinesi a essere discriminati, poi sono stati gli italiani a essere discriminati. Io non ho mai giocato nel buon ruolo, perché prima ero cinese, poi i qui in Francia mi riconoscono come italiano, quindi... E pensa che quest'anno era pure l'anno del turismo Cina-Italia. Sì, so, a proposito, sapevo questa tua nuova avventura tra Italia e Francia. ci descrivi un pochino che sono un po' curioso. Che cosa? Non ho capito. Questa iniziativa tra Italia e Francia. Tra Italia e Francia? Sì, non avevi... non dovevi andare tu a Exeter. Ah, esatto. Dovevo andarci come viaggio di istruzione del corso, però alla fine l'hanno cancellato perché il viaggio doveva essere a fine marzo e tu sai che siamo stati messi in quarantena l'8 di marzo, no, 12 di marzo se non sbaglio, e aspettavamo che questa pandemia finisse prima di aprile e se è continuato fino ad adesso. E quindi non si stiamo andando in viaggio, la cosa più bella del corso. Beh, spero che un giorno lo rifarete che sia solamente posticipato. No, no, non penso proprio perché E i soldi ve li hanno rimborsati? No, questo era compreso nel corso, il corso è gratuito, cioè è un corso finanziato dalla regione da fondo europeo, fondo sociale europeo, che però non l'abbiamo fatto perché la regione aveva altri problemi da risolvere, quindi niente, alla fine non lo facciamo. Beh, tra l'Italia e la Francia ci sono molte relazioni anche sul piano del commercio, cioè la regione dove sono io, o verno run out e l'Italia è il primo partner commerciale con l'Italia, quindi ci sono buone relazioni comunque tra la Francia e l'Italia. è bravo, è bravo, è bravo. E il ponte tra Francia e l'Italia, Zai? È una via di mezzo, cerchiamo di cerchiamo di creare più punti possibili, i punti, penso, più che barriere occorrono, occorre creare punti culturali. Va bene, ti posso fare un'ultima domanda, Zai? E poi concludiamo, dai, ti vedo un po' stanco, no? Eh, la giornata è lunga. Tu vai a lavorare? Ah no, per fortuna, no, faccio sempre la mia ricerca, quindi diciamo che la ricerca è abbastanza faticosa, i dati da controllare, i fonti da controllare, le note da scrivere, diciamo che non è una passezzata, soprattutto la tesi è fatta, sarà scritta in francese, quindi ci vuole tempo e impegno, in concentrazione soprattutto nelle notte, soprattutto della veridicità delle notizie e delle informazioni su cui mi appoggio. E poi tutto in francese, giusto? Sì. Ah, doppia fatica ascoltare. No, per fortuna, guarda, avendo... Pensa se era in cinese. No, ma avendo... beh, sono tutte fatiche. Qui ormai non si può mai fare come uno vuole, comunque sono contento, anche se in francese, perché comunque visto che spero di fare che arriva qua, quindi nell'ambito universitario. Il problema non è tanto il francese, il problema sono i vari stili linguistici, quindi perché nel mondo comune sociale parli un francese familiare, e poi con delle persone che non conosci parli un altro linguaggio più rispettoso, no? Dai del vu. Qui in Francia diciamo che c'è ancora questa... questo... questo modo anche piacevole, lo trovo molto del vu. Vabbè, in Italia c'è del lei, ma qui anche per un cameriere o per qualunque persona che tu non hai mai visto, dai del vu. anche nel sud dell'Italia, se non sbaglio. Ah, Sicilia, la del lei e del voi, sì, sì, in Sicilia, Sì, al sud del voi anche là, qualche volta usano anche molto al sud il passato rimasto, ma qui comunque sono molto apparentemente sono molto educati, ecco, salutano, ringraziano, cioè ciò che è di buon senso, no? Quando entri un bar dici buongiorno, se vuoi qualcosa chiedi per favore. Galateo è uno stile, sì, è un'educazione. Per fortuna qui funziona. Ascolti. 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 La tua ultima domanda. riguardava la carriera, io, l'ultima domanda è sempre una cosa per il futuro di Speranza, io volevo chiederti ad un giovane, no, veramente, visto che io spero che ci guardino diversi giovani, perché il target, adesso lo dico, sono i giovani, i millennials, sì, esatto, i millennials, perché noi, diciamolo, siamo over 30, il ruolo è ancora giovane, è dentro ma noi siamo ancora per poco, però non lo dire. per un giovane, visto che tu sai tre lingue, cosa consigli per il futuro, dove indirizzarlo, cosa studiare, in capia di andare, cosa vedi per il 2021, andiamo oltre, non andiamo quest'anno, andiamo oltre. Il mio, allora, se dovessi dare un consiglio a un giovane attuale, quello che faccio con i miei studenti, all'università è di fare, di riuscire a trovare un, diciamo, un compromesso tra ciò che ci piace e ciò che il mercato richiede, perché purtroppo non viviamo nel mondo dei sogni e viviamo in un mondo fatto di competizione, di concorrenza e sappiamo tutti i problemi che dobbiamo affrontare. Io, innanzitutto, dipende molto, ovvio, anche alle politiche che si fanno di un paese. Non credo che il mondo abbia bisogno solo di economisti, di ingegneri, di medici o di infermieri. Sacro santo il loro lavoro con tutto rispetto. Io credo che una società debba avere un po' di tutto, cioè una, che non c'è, non... Adesso stiamo dando molto peso al mondo scientifico, ok? E gli studenti che frequentano le facoltà umanistiche si sentono scoraggiati. e io dico sempre durante le mie elezioni dico non scoraggiatevi perché noi siamo comunque, le lingue sono utili, permettono di dialogare, permettono di facilitare i messaggi i messaggi tra due culture completamente diverse e poi anche nell'ambito del turismo. Il turismo, se il turismo è fatto bene pensando alla natura, rispettando la natura e a un'organizzazione anche migliore del sistema turistico, c'è veramente del lavoro per tutti, per chi fa nell'ambito che per chi ha fatto degli studi di lingue, di storia, di filosofia. Abbiamo bisogno anche di queste figure, di queste caratteristiche perché comunque la lingua è la base di tutto. Se uno è un medico, vabbè non parliamo dell'Italia ma che scrive perché abbiamo sempre l'esito di un medico che scrive stramale ma parlare bene è importante. Ciò che al giorno d'oggi stiamo dimenticando è l'importanza della parola e quello viene fatto per chi fa gli studi nell'ambito umanistico certamente non quello scientifico. I numeri sono importanti, è vero ma la cultura senza la cultura anche i numeri non sarebbero nati. Va bene, va bene. Siamo particolari come italiani, no? Eh? Anche la lingua dei segni. La lingua dei segni? Vabbè, anche questo. Ma come hai ben visto, come hai visto, Lolo, durante la pandemia la lingua dei segni era presente in qualunque discorso o esternazione che si è fatto tra Conte, tra Presidente della Repubblica o anche qui in Francia non parlo sia per la Francia che per l'Italia la lingua dei segni pensa che tra la Francia e l'Italia il linguaggio dei segni è diverso da quello che ho capito. Sì, tutti i paesi hanno la lingua dei segni diversa. È importante perché comunque il linguaggio sta alla base di qualunque società. Va bene, va bene ragazzi, siete stati fantastici. Ok. E niente, no, oggi finisce qui e mi raccomando ragazzi che ci ascoltate iscrivetevi al canale YouTube metteteci un mi piace se vi è piaciuto e niente, ci seguite per le prossime chiacchierate. Cerchiamo di rinvitarvi, sicuramente Zai avrà qualcos'altro da dire di nuovo e anche Luolo magari la intervestiamo. Vediamo. Va bene? Ok. Ciao ragazzi, Benissimo, grazie Wen, ciao a tutti, buona giornata e buon coraggio. Grazie. Forza.